Questa volta lo screening gratuito per la diagnosi precoce del melanoma e degli altri tumori che si tiene solitamente a giugno sarà dedicato a Giuseppe Azzarra, che per anni ne fu il coordinatore. Ed è proprio per commemorare l'ex vicepresidente del Consiglio tragicamente scomparso lo scorso ottobre che questa edizione sarà ancora più organizzata ed efficiente. Gli stand e le tende adibite per occasione ad ambulatorio di dermatologia e posizionate presso il chiostro della chiesa di San Domenico saranno aperte dalle 9 alle 14 di domenica 20 giugno. Seguendo la sana filosofia del prevenire meglio che curare per l'accertamento di questi tumori della pelle ci si avvarrà della più avanzata metodica diagnostica non invasiva, video micro spia ad epiluminescenza. Il servizio sarà effettuato da dermatologi, oncologi e operatori sanitari dell'Associazione Futura Onlus di Roma di cui è presidente Stefano Murace. Si tratta di un servizio ormai consolidato dal Lions Club di Fondi che quest'anno collabora anche con l'Associazione Internazionale dei Lions Club ed in particolare con il contributo del Lions Club di Dachau. Fondamentale è anche la collaborazione del Comitato Locale della Croce Rossa e dell'Associazione Ricerca Biomedica, molti patrocini tra cui il Comune di Fondi e la Banca Popolare di Fondi. La prenotazione dei biglietti dovrà essere effettuata presso il Chiostro della Chiesa di San Francesco sabato 19 giugno dagli ore 16 alle 19 e domenica 20 dalle ore 8 in poi. Le visite sono completamente gratuite, previ o biglietti numerati, onde consentire un ordinato svolgimento dello screening. Saranno forniti anche utili consigli per procedere ad un rapido autoesame della propria pelle dove i nei o altre macchie della pelle pericolose sono discritte attraverso le prime lettere dell'alfabeto A come asimmetria, B come bordi, C come colore, D come dimensione e come elevazione.